Secondo i dati elaborati dalla Facoltà Teologica di Palermo, nel 2009 in Sicilia al Tribunale Ecclesiastico sono state presentate 319 stanze di annullamento di matrimonio. Nel 2008 le richieste erano state 341. Le cause accettate dall'Organo di Giustizia Ecclesiastico per l'anno 2009 sono state 274. L'iter procedurale dovrebbe essere liquidato in circa un anno, ma a causa delle troppe richieste le sentenze messe al Tribunale subiscono notevoli ritardi. Secondo i dati registrati, la Sicilia detiene il record di annullamenti. Il dato isolano primeggia addirittura su quello di regioni più popolose, come la Lombardia o il Lazio. Da una prima analisi, il motivo è che in Sicilia la sta grande maggioranza dei matrimoni si celebrano in chiesa e che quindi il senso religioso di molti spinge, in caso di fallimento dell'Unione, a chiedere l'annullamento. La situazione sta diventando sempre più preoccupante, spiega Monsignor Ludovico Puma, presidente del Tribunale Ecclesiastico. Ci si sposa per futili motivi e non ci si rende conto che il matrimonio è un sacramento, non un abito bianco e basta. Si annullano matrimoni durati 50 anni, oppure quelli lampo, dopo appena 28 giorni. E addirittura c'è stato un caso di annullamento, dice Monsignor Ludovico Puma, perché lui scopre che lei ha sempre avuto un amante e ovviamente ne era all'oscuro al momento del fatidico sì. Tra le 319 proposte di annullamento, il primato spetta alle 136 richieste per l'esclusione dell'indissolubilità, cioè il mancato riconoscimento da parte dei conugi dell'eternalità del sacramento. 114 sono state le richieste presentate per l'esclusione della prole, praticamente la mancata volontà di uno dei due sposi a volere almeno un figlio. Questa richiesta può essere avanzata anche quando uno dei due conugi non rivela all'altro l'impossibilità di procreare.